T&T Services International. La soluzione ai problemi di trasloco anche all'estero. La T&T Services International è una società di traslochi nazionali e internazionali. L'obiettivo dell'azienda è la soddisfazione dei clienti. Per questo T&T Services mette a disposizione degli stessi tutta la sua competenza. Effettua un sopralluogo tecnico per verificare la posizione del luogo, quanto e che tipo di materiale deve essere trasportato e con quale urgenza. Il materiale impiegato per gli imballaggi è cartone, pluriball, nastro adesivo PVC in rotoli, casse o gabbie in legno o altri materiali. Grazie al suo parco macchine, l'azienda provvede alle operazioni di trasloco senza danno per gli oggetti da trasportare. T&T Services International, specializzata nei traslochi di militari e diplomatici, annovera tra i suoi clienti il Ministero della Difesa e degli Affari Esteri, ma anche i privati e aziende.